Ciao a tutti, sono Martina, vengo da Sondrio, ho 22 anni, mi sono laureata una settimana fa in relazioni pubbliche e comunicazioni d'impresa, ma ho già iniziato il mio percorso di laurea magistrale e mi piace comunque anche lavorare nel tempo libero come modella, fotomodella e i miei hobby principali sono fare shopping purtroppo per il portafoglio e viaggiare. Ciao a tutti!